Ben tornati, ben trovati, buon 5778 e questa è la prima lezione come ho scritto nel titolo la dedico alla mia bimba. Ho una figlia che come sapete tutti si è fidanzata, si è fidanzata vuol dire che a presto si sposerà e lei si trova in America con suo fidanzato perciò dedichiamo questa lezione a Hannah Nechama e al suo fidanzato Menachem Mendel ovviamente e auguriamo a loro due che possano veramente avere un Binyana Deyad, quando due persone si sposano gli si augura che possano avere un edificio eterno. Perché questa strana benedizione chassidica è un edificio che dura in eterno. Perché la vita matrimoniale, cari miei, è come un palazzo, un edificio, un grattacielo. Ma questo grattacielo come è nato? È nato dalle fondamenta. Se ci sono le fondamente molto forti, basate, molto forti che tengono tutto il palazzo, allora si può creare su questi fondamenti forti fino ad avere un lungo lungo palazzo che durerà per sempre. Perciò quando due si fidanzano e poi si sposano si dice che la vostra unione, che il vostro matrimonio possa essere un palazzo eterno, che possa durare, portare figli, nipoti per nipotiche, l'amore che vi lega, la solidità dei vostri due personalità che vi legano, che possano veramente portare a un colosso, a una vita, a un palazzo che perché proprio si porta il palazzo come esempio, l'edificio come esempio? Perché appunto dicevo l'edificio non nasce già pronto, l'edificio si comincia dalle fondamenta e poi si comincia a creare il primo piano, poi il secondo piano, mattonella sopra mattonella, lavoro su lavoro perché il matrimonio è questo, un continuo lavoro, un continuo creare, un continuo crescere. Mai bisogna pensare nella vita matrimoniale o comunque in ogni cosa che facciamo, non dobbiamo mai pensare che tutto venga in un attimo, tutto venga gratis, no! Ogni cosa nella vita che ha un valore va lavorato, mattone dopo mattone, così un matrimonio deve essere creato giorno dopo giorno, passo dopo passo quando le due persone si uniscono sempre di più e cercano insieme di creare una vita equilibrata tra di loro che possa appunto portare a una vita eterna insieme perché nella vita matrimoniale bisogna sempre sapere dare l'uno l'altro. E se non vuole fare la romanzia a nessuno, tutti voi sapete come funziona molte volte noi quando sentiamo da qualcuno queste cose ci rafforzano appunto nel poter fare, di capire che il matrimonio non è ricevere o prendere per se stessi, ma il matrimonio deve essere dare all'altro. Questo è il vero fondamento del matrimonio quando uno dice, il marito dice alla moglie, cosa io posso fare per te? Cosa ti piace? E idem la moglie devi dire al marito, cosa io posso fare per te? Perciò quando noi invece sbagliamo e molte volte intraprendiamo un rapporto egoistico che tutto deve girare intorno a me stesso, al mio ego, alla mia volontà, questo purtroppo è un modo insano di creare un palazzo perché il palazzo si crea con altre persone, una persona da sola non potrà mai, anche il più bravo costruttore non potrà mai fare un palazzo da solo, deve condividere, deve dividere il lavoro con altre persone, perciò quando noi sappiamo, siamo capaci di condividere il lavoro con altre persone ma lavorare con armonia, allora questo palazzo veramente potrà essere un palazzo eterno. Perciò quello che il matrimonio è di sapere vivere insieme, di sapere ogni giorno crescere insieme in modo che questo palazzo venga veramente creato dal marito e dalla moglie senza tu di più, io di meno ma siamo soci al 50%, in verità oserei dire che la donna ha 60, 80, 90% perché la donna è quella che veramente le fondamenta di una famiglia sono sane quando la donna è capace veramente di portare il calore familiare, l'educazione ai figli, la spiritualità e tutto quanto. Il marito fa finta di essere spirituale, fa finta di essere, ma alla fine tutti siamo consci, tutti consapevoli che in verità è la moglie che è la fondamenta della casa, perciò alle mogli che ci ascoltano, alle donne che si sposeranno, diciamo sappiate che voi siete il futuro della vostra casa, sappiate che le fondamenta di una casa è in mano alla donna perché lei sa giostrare, sa indirizzare, incanalare la vita sua di suo marito, di suoi figli nel modo giusto. Ok, questo è per quanto riguarda il matrimonio, che bisogna appunto crescere insieme e vivere passo dopo passo durante anche le difficoltà e tutto quanto, bisogna essere sempre uniti e forti uno con l'altro. La seconda dedica di stasera è, da parte di essere, non so neanche se lei sta guardando o meno, comunque la dedica è di Alessandra Mariniello, che dedica questa lezione alla memoria della nonna che era Vera Krauss e a mamma che era Nada Krauss Shaula, perciò ringraziamo Alessandria da Terni che ha voluto dedicare questa lezione in memoria della mamma e della nonna. Oggi è l'anniversario di partita del Rebbe Maharaj, che sarebbe il quarto Rebbe di Lubavitch. Oggi lui è mancato, perciò diremo un piccolo concetto che era basilare nella sua vita, lui diceva così, lui era il quarto Rebbe, perciò tre generazioni addietro, e lui diceva come insegnava come poter risolvere i problemi della vita. Lui diceva, nella vita ci sono certe volte delle problematiche, ci sono degli ostacoli da superare e normalmente le persone nel mondo cosa fanno? Quando vedono un ostacolo cercano di sviarlo da sotto, dai lati, praticamente di prendere questa difficoltà in un modo naturale, basato sulle forze della natura. Poi quando vedono che non riescono a risolvere questo problema con le proprie forze e con la natura, cosa fanno? Cercano di andare al di sopra della natura, di chiedere aiuto a Dio, di fare qualcosa di spirituale per poter risolvere il problema. E questo è di norma, bene o male, il comportamento medio-umano. Prima cerchiamo di risolvere il problema in un modo naturale e poi soltanto dopo ci mettiamo nelle mani di Hashem. Invece il Rebbe diceva a priori bisogna andare al di sopra del problema, non bisogna mai andare sotto il problema, vuol dire avere il peso del problema su di noi, ma al contrario, a priori una persona deve andare al di sopra, vuol dire al di sopra della natura. Non essere sottomessi dalla natura, di non pensare che la natura del mondo, l'andamento del mondo è quello che covea, vuol dire che fissa, che decide l'andamento della nostra vita. Noi siamo persone che siamo al di sopra della natura. Di conseguenza ogni cosa che noi facciamo deve essere al di sopra della natura, perciò in un modo divino, in un modo spirituale, perciò anche per risolvere i nostri problemi non dobbiamo risolverli pensando come tecnicamente, umanamente, fisicamente, di poter, ovviamente, non possiamo soltanto pregare e Dio mandi la guarigione o il sostentamento che, ovviamente, ci vuole anche la parte pratica, ma qua stiamo parlando di come risolvere un problema, di come intraprendere un problema nella nostra vita e superarlo. Il Rebbe ci insegna non perdere tempo a evitarlo, a cercare di qualche modo di sviarlo, no! Lechachila riber, a priori tu devi saltare sopra questo problema e non riuscirai a saltarlo. Molte volte per superare un ostacolo bisogna andare indietro. La vita è fatta di indietro, avanti, dietro, avanti, ma quando andiamo indietro non dimentichiamoci che stiamo prendendo una rincorsa per poi poter correre in avanti e saltare. Quando una persona è davanti e c'è un ostacolo, se è troppo vicino all'ostacolo non riuscirà a saltare l'ostacolo, dovrà indietreggiare, andare un pochettino indietro, prendere una rincorsa, perciò si allontana dal punto di che vuole saltare, si sta allontanando dalla meta, ma questo allontanamento gli darà uno slancio per poter saltare l'ostacolo. Questo è un concetto chassidico ritrovato molte volte che ti insegna che quando sei caduto un pochettino in basso, quando stai andando un po' indietro nella dubbietta spirituale, non devi preoccuparti, si devi prenderti in mano, ma ogni passo indietro che una persona fa, devi sapere che lui si sta allontanando dalla meta, ma allo slancio per poter saltare, perciò quando cadiamo in basso possiamo risalire in alto ancora più di quello che avevamo prima, perciò questo è il motto del Rebbe Maharaj, che oggi è la sua data di ripartita, che gli insegna non preoccuparti perché le persone, il mondo e le cose fisiche non sono loro che decidono sulla tua vita, ma è soltanto Dio, perciò a priori vai alla fonte dei problemi, che ogni cosa è da Dio, perciò ogni cosa che noi abbiamo, le difficoltà, le sfide che noi abbiamo sono cose come tante volte ripetiamo che Dio ci manda per rafforzarci, perciò noi prendiamo questa sfida e diciamo ok, ho capito che Dio vuole che io cominci a saltare, indietreggio un pochettino, però faccio un salto e poi riuscirò veramente ad arrivare dall'altra parte della staccionata in modo che io possa risolvere veramente ogni forma di problematica che ci possa essere nella vita e questa appunto è la lezione che dedichiamo a Hanna e alla famiglia del Mariniello. Questo Kippur è stato un Kippur speciale, ho pregato nello stesso tempio come prego sempre a Kippur, con le stesse persone, però quest'anno era un anno speciale che io non ho mai avuto una preghiera alla sera di Kippur così speciale come quest'anno. Sapete perché? Perché avevo accanto a me due angeli e uno mi può dire ma certo ogni venerdì sera noi abbiamo degli angeli che ci seguono, degli angeli che ci accompagnano dal tempio a casa dove sta la novità che tu ci stai raccontando, ma questo Yom Kippur la sera io avevo veramente due angeli che vedevo, non due angeli quelli spirituali che non si vedono, avevo accanto a me due persone che erano due angeli e adesso vi racconto che tipo di persone erano questi. Avevo accanto a me due persone che voi avete visto la loro foto durante quest'anno che io ho postato su Facebook, due persone che hanno fatto Bar Mitzvah in età avanzata, perciò non a 13 anni ma a 40, 39 e passa anni, due persone che hanno scoperto, hanno riscoperto il loro ebraismo, due persone che stanno tornando pian piano alle loro origini, due persone che per la prima volta quest'anno hanno sentito il suono dello Shefar, che per la prima volta nella loro vita quest'anno hanno festeggiato Kippur, non sono mai stati al tempio di Yom Kippur, ma non perché non volevano o perché erano contro, semplicemente non conoscevano le loro origini, uno dei due addirittura non sapeva neanche di essere ebreo, l'altro sapeva ma non aveva il meccanismo ancora che andava avanti. Baruch Hashem ho incontrato queste due persone durante l'arco dell'anno, abbiamo avuto il merito di far loro Bar Mitzvah e pian piano studiando e incontrandoci Shabbat e sentendoci al telefono Baruch Hashem sono venuti a fare il loro primo Kippur. Io prego a Kippur in un tempio dove sono tutti i rabbini e ripeto, i due angeli non erano i rabbini, ma i due angeli erano due persone che hanno fatto per la prima volta il loro Kippur. Perché dico che sono angeli? Perché hanno avuto il coraggio di intraprendere questa strada di ritorno a Dio. Yom Kippur cosa ci ricorda? Yom Kippur ci ricorda che noi torniamo a Dio, la Teshuvah che noi facciamo che cos'è? E' ritornare a Dio, ritornare a noi stessi e queste due persone che erano accanto a me, alla mia destra, alla mia sinistra, ovviamente non sapevano pregare, avevano un libro in italiano, un po' leggevano, un po' ascoltavano, un po' guardavano, un po' erano persi, un po' cantavano. Era una gioia, una meraviglia essere accanto a loro due, ovviamente non posso fare loro nomi, ma comunque non li conoscete, uno forse sì, l'altro no, non è importante. Ha avuto una delle preghiere più significative, più belle di Kippur della mia vita, grazie a questi due personaggi che mi hanno accompagnato e mi hanno portato gioia a vedere come erano lì assetati di emozioni, battevano le mani, cantavano, non sapevano le parole, però erano lì che veramente con tutta la loro emozione hanno pregato sicuramente meglio di me. Io ho detto tutte le parole, per loro anche se non dicevano le parole, ma la loro emozione era così forte che finalmente hanno ritrovato questo Kippur perso, questo Kippur che mai in loro vita avevano fatto, nella loro vita, in questo momento erano lì davanti a Dio e io mi sentivo che la loro preghiera elevava anche la mia preghiera. Perciò consiglio a tutte le persone, non pensiamo soltanto a noi stessi, non possiamo essere egoisti e pensare soltanto alla nostra spiritualità, dobbiamo preoccuparci della spiritualità delle altre persone che non hanno avuto la fortuna di avere un'educazione ebraica da quando erano bambini. Ci sono persone del genere e bisogna trovarle, cercarle, invitarle a partecipare alle festività, ai Shabbat e questo è l'unico modo che possiamo veramente fare in questo mondo, un mondo luccicante e brillante, quando le persone che sono lontane dalla verità, noi riusciamo a influenzarle con bontà e dolcezza, a ritornare veramente sui loro passi. Quando finisce Kippur c'è una storia che racconta, un bambino va dal papà e dice Ok, adesso Kippur è finito, alla fine del digiuno, e adesso cosa facciamo? E il padre gli risponde, adesso comincia Kippur. Come vuol dire adesso comincia Kippur? Abbiamo fatto 26 ore di digiuno e il bambino dice Adesso comincia Kippur perché vuol dire che essere vicino a Dio non è soltanto un fattore di emozioni, ma è una cosa di pratica. Non soltanto un fattore di emozioni, ma dobbiamo operarle, portare le emozioni nella realtà di ogni giorno. A Kippur cosa facciamo? Noi preghiamo tutto il giorno. Non abbiamo una mitzvah come lo shofar, il tefilino, che è un giorno di preghiera. Allora la persona può dire Ma questo giorno così è elevato, cosa ci rimane? Allora la risposta è proprio quando finisce Kippur, comincia Kippur. Se noi siamo capaci di trasportare questa emozione del giorno di Kippur e spalmarlo in tutti i giorni dell'anno che sta arrivando, che è già cominciato, allora Kippur si vede il giorno dopo, il mese dopo, fino al prossimo rosh Hashanah. Il Kippur non si vede nel giorno di Kippur. Ah, ho digiunato tutto Kippur, ho pregato tutto Kippur. Il Kippur si vede da quello che ti rimane dopo. In quel momento magari siamo tutti emozionati, siamo tutti preoccupati a pregare bene, concentrati e tutto quanto, esportati. Ma il Kippur si vede l'indomani, il Kippur si vede dopo le festività. Adesso siamo ancora carichi perché passiamo da una festa all'altra. Adesso è Sukkot e poi Shemini Azzeret, Simchat Torah. Ma il vero Kippur quando si vede fra un mese, quando comincia il buio, quando comincia il freddo, quando comincia a passare tutta questa magia, questo profumo delle feste quando vanno via, vediamo fra un mese, fra due mesi, fra sei mesi se veramente il Kippur che abbiamo fatto veramente ci ha donato qualcosa, è entrato dentro di noi, ci ha scavato un qualcosa di profondo che prima non avevamo. Perciò il Kippur, come diceva questo papà, si vede soltanto dopo il Yom Kippur. Perciò c'è una frase che dice che quando finisce il Yom Kippur, in cielo dicono Vai a mangiare con gioia il tuo pane. Ma come? Abbiamo digiunato, pregato, siamo diventati come degli angeli. E la Torah dice vai a mangiare. C'è come un ecco, una voce che dal cielo dice vai a mangiare il tuo pane. Perché? Perché dice di non pensare che queste emozioni astratte del Yom Kippur sono tutto. Vai a mangiare il pane, vuol dire fai un qualcosa di pratico, di materiale, perché Yom Kippur non è soltanto emotività, ma è cose pratiche. Infatti, una delle usanze è che appena finisce il Yom Kippur, proprio la sera il Yom Kippur, quando siamo ancora al Tempio, quando andiamo a casa, c'è un'usanza di andare, chi ha la sukkah, la capanna, di cominciare a costruire la capanna. Perché? Per dire che passiamo da un giorno estremamente spirituale, ma molte volte può essere anche un giorno astratto, a una cosa tecnica, materiale, costruiamo la sukkah. Per dire che il giorno di Kippur non è soltanto yoga, concentrazione, che è importantissimo, ma il giorno di Kippur ci deve portare a fare un qualcosa, un cambiamento interiore, a creare una situazione dove noi prendiamo in mano la nostra vita. Perciò questa è l'idea di Kippur, di non soltanto emozioni, ma di trascinare, spalmare tutte queste emozioni in ogni singolo giorno dell'anno che sta per entrare. E adesso arriviamo alla festa di Sukkot, la festa di Sukkot che è la festa più gioiosa di tutto il mondo, di tutto il calendario. Per chi non sa, Sukkot è la festa delle capanne, potete andare a scrivere Sukkot e vedrete cosa sono le capanne, come la sukkah. Noi abbiamo la mitzvah di mangiare, di vivere nella sukkah per otto giorni fuori da Israele, per sette giorni in Israele, ma la frase che viene ripetuta diverse volte nella Torah, che cos'è? Quando arriva alla festa di Sukkot, la Torah scrive tre volte e gioirai nel tuo giorno di festa. Nelle preghiere parliamo di festa, di gioire. Perciò è un giorno, la domanda è come mai viene scritto proprio nel giorno di Sukkot, nella festa di Sukkot, e gioirai, a Pesach che siamo usciti dalla schiavitù egiziana, non c'è scritto e dovrai gioire. E come si sono salvati la vita? Nelle altre festività no, a Sukkot, la Torah specifica, in questa festività il fulcro della festa cos'è? Devi essere gioioso, devi essere gioioso, questa è una festa gioiosa, come mai? Ebbene cari amici, cosa facciamo noi nel periodo di Sukkot? Noi tagliamo i frutti, li portiamo a casa, li mangiamo e godiamo di questi frutti. La Torah ci insegna, il messaggio di Sukkot è che non è sempre facile arrivare alla gioia. Noi siamo nella generazione del fast food, la generazione che vogliamo le cose veloci, immediatamente, subito adesso. Non siamo capaci di aspettare. Ma purtroppo, come purtroppo o per fortuna, Hashem ha creato il mondo in un modo che non sempre le cose che noi desideriamo vengono con velocità. Anzi, molte volte vengono molto lentamente e molte volte vengono tramite una sofferenza. Allora, questo è il messaggio che Sukkot, cari amici, ci dà, è che la gioia, perché proprio in questa festa è sottolineata la gioia e non in altre feste? Perché, come dicevo prima, è la festa dove noi raccogliamo i frutti e cominciamo a godere di questi frutti. Questi frutti, da dove arrivano? Arrivano da un anno di fatiche, da un anno intero che pioveva, faceva freddo e il contadino andava, o il padrone dell'orto andava nei campi a lavorare, a guardare, a fare. Perciò dopo un anno di fatica intera, finalmente il contadino o noi possiamo godere dei nostri frutti. Lo portiamo a casa, al calduccio e ci godiamo ogni azione, ogni frutto che abbiamo fatto. E questo è il messaggio che la Torah dice, Vesamachta, perché devi essere gioioso? Perché devi sapere che la gioia viene dopo un anno di fatiche. Che la gioia non è sempre gratuita, la gioia non è sempre dietro l'angolo, ma devi faticare. Devi guadagnare la gioia. Ricordatevi, cari amici, niente è gratuito. La Torah, Hashem, non vuole regalare niente, perché le cose gratuite molte volte non hanno un valore. Chi riceve un regalo molte volte lo perde, chi riceve un'eredità molte volte fa delle brutte cose, perde i suoi soldi. Perché? Perché non ha guadagnato. Ma una persona che suda ogni centesimo che lui ha, lo guadagna, lo suda, lui sarà molto attento a come consumerà e userà i suoi soldi. Perché? Perché li ha guadagnati. Con fatica, con sudore. Ed è questo il sistema. Dio ha detto, con il sudore della tua fronte mangerai pane. Perciò quando vuoi un qualcosa, quando veramente vuoi un qualcosa, devi essere capaci di combattere, di sudartelo, di guadagnartelo. E questa è anche la gioia. E questa è anche un'allevazione spirituale. Ogni cosa buona che noi vogliamo, non dobbiamo pretendere che venga immediatamente, ma dobbiamo essere consci che potrà prendere un anno di duro lavoro e poi alla fine i frutti si vedranno. Può essere un anno, due anni, può essere una persona che abbia una vita martoriata, una vita malata, una vita problematica, ma deve essere sempre consapevole che ogni cosa viene da Dio e Dio non fa mai niente di male, perciò anche i problemi, anche le difficoltà vengono per rafforzarci, per poter poi apprezzare ancora di più quando arriverà il momento che gusteremo i frutti della nostra vita. Ed è questo uno, un messaggio proprio velocissimo, ma molto profondo, che la festa di Sukkot ci porta. Perciò anche nella nostra vita, nella nostra vita dobbiamo essere capaci di seminare, di seminare, di fare buone azioni. Una persona dice, ma io faccio buone azioni. C'è una signora, probabilmente mi sta ascoltando da Roma, che ogni tanto mi chiama, dice, io aiuto, io faccio, io sono buona con tutti e poi alla fine le persone sono scortesi con me, più io sono buona. Io dico a questa signora, lei deve continuare a seminare, non è importante quello che lei riceve oggi, è importante quello che lei riceverà un domani, ma non dagli umani, ma da Dio. Molte volte noi pretendiamo che gli umani ci diano qualcosa. Noi dobbiamo soltanto avere fiducia in un Dio e Lui vede ogni minimazione, ogni semino che noi mettiamo, ogni buona azione che noi facciamo. Dio lo vede, lo calcola e al momento giusto ci darà i frutti e noi potremo veramente godere. Perciò continuiamo con tanta fede a continuare a seminare positività. Chi semina positivo riceve indietro soltanto positività. Adesso vi faccio vedere il Lulav. Il Lulav è l'oggetto che noi useremo durante la festa di Sukkot. Domani sera, mercoledì sera, comincerà Sukkot. Abbiamo otto giorni di festa. Sto aprendo le quattro specie. Abbiate un attimo di pazienza. Guardate, le quattro specie. Abbiamo una delle specie che sono tutte chiuse molto ermeticamente. Abbiamo qua un cedro che arriva dalla Calabria. È ancora un pochettino verde, ma pian piano prenderà colore giallo. Questo cedro è calabrese. Vuol dire che è uno dei cedri migliori del mondo, perché nel mondo è riconosciuto che i migliori cedri sono dalla Calabria. Infatti, se voi andate nel periodo estivo in Calabria, trovate decine e decine di persone, di rabbini, di chassidim, che vengono da tutto il mondo, dall'Israele, dall'America, vengono per raccogliere questi etroghim e esportarli in tutto il mondo intero, perché sono etroghim migliori del mondo, quelli calabresi. Perciò abbiamo qua le quattro specie che la Torah ci dice di prendere durante la festa di Sukkot. Ok, abbiamo qua il palmo, l'albero del palmo, vedete? Poi abbiamo qua il mirto e poi dentro abbiamo, adesso lo faccio vedere, del salice, vedete? Salice. Abbiamo poi l'etrog, abbiamo etrog, mirto, salice e la palma, che sono quattro specie di alberi, di piante. La Torah ci racconta, la Torah ci scrive, che quando arriva la festa di Sukkot dovete prendere queste quattro specie, legarle insieme, vedete che sono legate qua insieme, e fare una benedizione e questo porterà gioia. La gioia è tramite, che appunto una delle cose principali che noi facciamo durante questa festa è di unire, proprio adesso non posso farlo perché non è ancora la festa, non ho fatto ancora la benedizione, ma noi quando facciamo la benedizione dobbiamo unire tutte queste quattro specie insieme, deve attaccarli proprio e questo lo scuotiamo e facciamo gioia. Adesso, quali sono, cosa ci insegnano queste quattro specie? Queste quattro specie ovviamente sono quattro categorie di persone, quattro categorie di ebrei. Allora per inizio abbiamo la palma, la palma non ha odore, però ha sapore, perché ha un albero, l'albero del dattero, ok? Poi abbiamo il mirto, questo mirto che arriva da Israele, da Zfat, il mirto migliore del mondo. Questo mirto che cos'ha? Al contrario del dattero, ha un profumo, ma non ha sapore, vuol dire non ha un frutto. Poi abbiamo il salice, il salice è quello che non ha né profumo né odore, non profuma e non ha frutti. E poi alla fine abbiamo il letrog, il cedro calabrese dell'andrangheta, il cedro calabrese che è quello che ha sia sapore che profumo, vuol dire è un frutto che quando sentiamo il suo odore ha un profumo meraviglioso, ma anche un sapore meraviglioso, quello che c'è tutto. Ovviamente queste quattro specie rappresentano quattro tipi di persone. Abbiamo le persone come l'albero della palma, che hanno sapore ma non hanno odore. Cosa vuol dire il sapore? Studiano la Torah. Delle persone che maggiormente occupano la loro vita a studiare la Torah, ma magari hanno meno mitzvot, sono meno magari attenti alla pratica della Torah, delle mitzvot, ma più che altro sono attenti a fare lo studio della Torah. Perciò studiano tanto, ma purtroppo mancano di aiutare il prossimo, mancano delle mitzvot o quant'altro. La seconda è il mirto, è quello che ha un odore ma non ha un sapore. Al contrario le persone che magari non sono erudite, le persone che magari non hanno studiato tanto, però sanno l'importanza delle mitzvot e sono presenti, perciò fanno le mitzvot, hanno il profumo delle mitzvot. Poi c'è il salice. Il salice non ha niente, è privo di qualsiasi cosa. Non studia la Torah, non fa le mitzvot, è un momento apatico. E poi c'è il cedro, che ha tutte le qualità, ha un buon sapore, ha un buon odore, e rappresenta ovviamente l'ebreo che fa tutte le mitzvot, che studia la Torah, l'ebreo diciamo completo. Arriva la Torah, diceva, Samarta, dovrai essere gioioso, in quale modo? Quando riuscirai a unire tutte queste quattro specie. Infatti, se una persona, come prima ho fatto vedere, non unisce, ma le tiene vicine, non ha fatto la mitzvah, perché devono essere unite. Oppure, se una persona, sia mai, un anno non trova un cedro, o non trova, una delle quattro specie non ce li ha, lui non potrà fare la mitzvah. Perché? Perché se sono tutte e quattro le specie insieme, allora la mitzvah è completa. Se manca una delle quattro e la mitzvah non è completa, non si può fare, non si può dire la benedizione. Perché? Perché visto che queste quattro specie di piante rappresentano le quattro categorie di ebreo o di persona che si voglia, perciò se manca una persona all'interno del popolo, se manca una categoria, ma anche il salice, quello che non fa niente, anche lui è importante per il popolo. Quando nel popolo manca un qualcuno, il popolo è incompleto, che questo possa essere le troghe, il cedro, che fa tutto, o il salice che fa niente, non è importante. Non è che tutti dobbiamo essere per forza dei cedri, perfetti. Magari potrebbero essere tutti perfetti, ma il punto è che la Torah dice esistiamo, esistono le quattro specie, non dobbiamo far finta che non esista, non dobbiamo far sì che queste quattro specie possano essere unite, in modo che tutti possano prendere il profumo dal cedro, di prendere l'influenza dal cedro che fa tutto, ma anche se nel momento attuale c'è ancora un qualcuno che non fa le mitzvot, non dobbiamo allontanarlo, al contrario, la Torah dice sappi che se non c'è lui tu non potrai fare la mitzvah, se non c'è il salice, quello che non fa niente, la nostra mitzvah non è fattibile, perciò dobbiamo essere capaci di apprezzare tutte le persone, anche quelle che magari al momento attuale non vanno nella stata di Dio, non fanno le mitzvot, non sono servanti, dobbiamo apprezzarle perché fanno parte di noi e se loro non ci sono la nostra mitzvah ovviamente è incompleta, faccio qua, vediamo l'importanza dell'unità che si crea all'interno del popolo che è una delle mitzvot basilari che Dio vuole dal suo popolo, così come ogni padre desidera che i suoi figli siano sempre uniti, si amino e si aiutino in un l'altro, anche Hashem vuole che noi siamo uniti in un l'altro. Il lulav, adesso vi faccio vedere, vi do una chicca che potete raccontare a tavola, magari in sukkah, il lulav, cosa vi ricorda? La spina dorsale, il mirto, la forma del mirto, cosa vi ricorda? Gli occhi, giusto? Guardate, il mirto, ogni foglietta ricorda gli occhi, e tra l'altro anche dei bei occhi che sono occhi orientali un po' a mandorla, ok? a chi piace. Poi, abbiamo il salice, il salice che è più lungo, cosa vi ricorda il salice? Le nostre labbra. E infine, abbiamo le trog, che è il cedro, cosa ci ricorda? Il nostro cuore. Qua abbiamo quattro componenti dell'ulav che rappresentano, che ci ricordano quattro arti, quattro parti del nostro corpo. per dire che molte volte noi con la nostra spina dorsale ci muoviamo e andiamo in posti sbagliati. Andiamo, il nostro corpo va e facciamo dei peccati dovunque magari andiamo. Molte volte noi pecchiamo con i nostri occhi, guardiamo cose che non dobbiamo guardare. Molte volte noi pecchiamo con le nostre labbra, diciamo cose che non dobbiamo dire. molte volte noi pecchiamo con il nostro cuore perché non abbiamo abbastanza amore e rispetto per il prossimo. Non siamo capaci di condividere con gli altri, di dare il nostro cuore agli altri e il nostro peccato deriva dal cuore molte volte. Allora la Torah dice queste quattro parti del tuo corpo che durante l'anno tu molte volte pecchi tramite queste quattro parti arriva la festa di Sukkot e tutte queste quattro tu le stai usando per fare che cosa? Per fare una mitzvah, per fare un comandamento di Dio, perciò usiamo, siamo capaci di trasformare tutte queste cose che durante l'anno le usiamo per negatività e cosa facciamo? Spiritualità, positività. Perciò questo ci rappresenta che ogni cosa che noi abbiamo sbagliato durante l'anno da adesso in poi abbiamo la forza visto che siamo vicini appena passato Rosh Hashanah, appena passato Kipur e fra poco arriva appunto Simchat Torah noi siamo capaci di trasformare le negatività che noi abbiamo assunto durante l'anno metto via perché se si graffia non va bene tutte le cose che abbiamo fatto sbagliando durante l'anno arriva la festa di Sukkot e noi le trasformiamo e le rettifichiamo e le facciamo diventare un qualcosa di positivo perché ricordiamoci non ci stancheremo mai di dirlo il nostro compito in questo mondo è di portare luce luce di positività luce di aiutare il prossimo di essere vicino al prossimo ed è questo veramente l'unico modo di poter ricevere bene quando una persona semina del bene alla fine il bene ti ritorna indietro è come un boomerang lo butti lontano poi alla fine ti torna indietro questo vale per il bene ma purtroppo vale anche per il male quando una persona semina male semina negatività purtroppo poi il male torna indietro e chi invece si preoccupa nella sua vita di seminare positività sarà sempre rincorso dalla positività perciò sappiamo cosa seminare in che cosa mettere le nostre forze adesso abbiamo parlato delle quattro specie che è una delle due mizuoti importanti della nostra festa che sta per arrivare c'è scritto tutto quello che c'è nella festività di Rosh Hashanah e del giorno di Kipur ma che è celato è nascosto c'è anche a Sukkot però in un modo rivelato ripeto la festa di Rosh Hashanah e di Kipur ha un qualcosa che è nascosto che adesso vi racconto che cos'è questa cosa di nascosto che c'è di Rosh Hashanah e Kipur quando arriva a Sukkot è rivelato perché Rosh Hashanah Kipur e Sukkot sono tre festività che sono collegate una con l'altra parentesi perché la festa di Sukkot viene soltanto dopo Kipur a Kipur noi pentiamo dei nostri peccati Dio ci pulisce allora quando una persona veramente è pulita interiormente veramente ha cancellato i suoi peccati veramente lui è pronto ad avere un anno migliore una vita migliore allora e solo allora potrà lui avere gioia come puoi gioire se dentro ancora di te non hai tolto le tue negatività come puoi veramente gioire se sei ancora dentro hai dei peccati allora la Torah dice vai pulisciti togli tutti i peccati e solo dopo potrai veramente gioire in un modo completo per questo motivo che appunto la festa di Sukkot viene soltanto dopo il giorno del pentimento adesso abbiamo detto che c'è una cosa in comune tra queste tre festività solo che nelle prime due feste è nascosta invece nella festa di Sukkot è rivelata questa che cos'è? l'unità l'unità che si crea all'interno del popolo quando arriva Rosh Hashanah siamo tutti uniti a fare che cosa? ad acclamare Hashem Re del mondo vi ricordate? abbiamo parlato che a Rosh Hashanah noi suoniamo lo shofar a Rosh Hashanah noi incoroniamo Dio come il nostro Re allora noi siamo lì che acclamiamo Dio perciò quando noi facciamo tutti insieme un qualcosa cosa siamo? siamo uniti giusto o no? perché siamo uniti a fare tutti una cosa uguale quando arriva dopo dieci giorni Kippur preghiamo facciamo Teshuvah siamo tutto il giorno al Tempio di nuovo siamo uniti perché siamo lì tutti insieme a pregare perciò vediamo che sono due giorni solenni tre due giorni di Rosh Hashanah e un Kippur che la nostra unità siamo tutti uniti perché facciamo la stessa cosa però cosa succede? le diversità che ci sono tra di noi non spariscono siamo uniti ma la nostra unione da cosa deriva? dal fatto che siamo tutti in una stessa aula a fare un qualcosa uguale ma ciò non ci rende tutti uguali attenzione stiamo tutti pregando in un modo uguale stiamo facendo qualcosa di uguale ma rimaniamo pur sempre persone diverse persone con ognuno con le sue difficoltà ognuno con le sue mancanze ognuno di noi è fatto a modo suo è diverso l'uno dall'altro perciò facciamo qualcosa di uguale siamo uniti a fare un qualcosa ma rimaniamo sempre diversi perciò siamo uniti ma la nostra unità sembra che sia vacillante perché? perché non cambiamo la nostra essenza a Sukkot invece vediamo proprio il fattore contrario a Sukkot tramite il Lulav perciò le quattro specie che vi ho fatto vedere enfatizziamo la nostra diversità non diciamo eh vabbè facciamo finta di essere uguali come magari succede a Rosh Hashanah Kippur no a Sukkot la festa che cos'è di prendere le quattro specie queste quattro specie che rappresentano quattro tipi di persone diverse e noi diciamo noi siamo così il nostro popolo è creato da quattro tipi di persone vogliamo far finta che non esistano vogliamo opprimere qualcuno di loro uccidere i reshaim no la Torah dice esistono fate della vostra debolezza una forza perciò qua la Torah ci si dice proprio per il fatto che siamo diversi e non come a Rosh Hashanah Kippur che noi nascondiamo le nostre diversità con il fatto che facciamo un qualcosa tutti insieme no a Sukkot noi mettiamo le carte in tavola diciamo cos'è la festa di Sukkot scuotere le quattro specie ma le quattro specie sono le quattro caratteristiche quattro persone diverse allora diciamo sì è vero noi siamo diversi eppure pur essendo diversi siamo un popolo unico bellissima questa è molto facile amarsi quando si è uguali è molto facile rispettarsi quando la si pensa in un modo uguale ma è più difficile amarsi e rispettarsi quando siamo diversi e quando noi enfatizziamo il fatto che siamo diversi diciamo questa è la verità noi siamo diversi siamo quattro categorie eppure siamo capaci di essere legati e uniti e dipendenti uno dall'altro perciò quando arriva la festa di Shavu di Sukkot che noi enfatizziamo proprio il fatto che siamo diversi e tramite il paradosso è proprio perché siamo diversi allora riusciamo a essere uniti il paradosso questo dimostra che in verità quello che si è creato nei giorni precedenti a Rosh Hashanah e a Kippur quando sembrava che in verità fosse un qualcosa che non era una vera unità perché eravamo concentrati in qualcos'altro in verità cosa scopriamo che no che quello che si era creato a Rosh Hashanah pur in verità è un qualcosa di forte e di profondo perché lo vediamo soltanto a Sukkot che anche quando ci accorgiamo e enfatizziamo la nostra diversità siamo capaci di essere amici perciò sembrerebbe che a Rosh Hashanah pur c'è un'unione un po' traballante ma in verità quando arrivo a Sukkot scopriamo che è una vera unione perché pur essendo diversi rimaniamo anche uniti non perché facciamo qualcosa di uguale ma perché facciamo qualcosa di diverso l'uno dall'altro e questo è un concetto meraviglioso che scalda il cuore questo paradosso grandioso che siamo uniti proprio nella nostra diversità la seconda mitzvah che noi facciamo è la mitzvah di Sukkha c'è scritto nella Torah Be Sukkot Teshvu dovete abitare Teshvu vuol dire sedere ma il Talmud dice sedervi vuol dire abitare noi andiamo a vivere per questi giorni di Sukkot nelle capanne mangiamo beviamo la Allah ha chiede anche di dormire e così via ma la Sukkha che cos'è è una capanna la Sukkha è Arai Arai in ebraico vuol dire un qualcosa di non stabile un qualcosa di momentaneo di oggi c'è domani non c'è la Sukkha è soltanto per 8 giorni infatti prendiamo un po' di tende un po' di assi e le mettiamo tutte insieme non ha la solidità di una casa non ha la sicurezza di una casa non c'è il calore della casa non c'è la comodità di una casa è una casetta che noi facciamo momentanea il Talmud dice che la mitzvah della Sukkha è una mitzvah facile perché è facile cosa noi facciamo dopo tutto nella Sukkha mangiamo la mitzvah degli 8 giorni è andare nella Sukkha e mangiare lì tutti i nostri pasti allora dice dove sta la difficoltà devi soltanto mangiare per fare la mitzvah e qua fa vedere la grandezza dell'amore di Hashem per i suoi figli non sempre Dio chiede ai suoi figli di pregare di studiare di fare cose difficili per arrivare a lui ogni tanto Dio ti fa vedere che è anche facile arrivare a lui mangiando una persona si reca in Sukkha fa una preghiera mangia quello che gli piace e in questo momento lui è collegato con Dio dove vediamo una mitzvah che possiamo collegarci con Dio mangiando stiamo tutti bravi a mangiare a tutti ci piace mangiare qualcuno mangia tripolino qualcuno mangia persiano aschianasita ma ognuno quello che mangia gli piace e qua la Torah dice vai fai qualcosa che sei bravo che è naturale mangiarlo ma questo sarà per te considerato come una mitzvah perché? perché lo fai nelle mura della Sukkha la Sukkha ha una forza di abbracciare le persone che entrano dentro è l'unica mitzvah che noi facciamo con tutto il corpo quando mettiamo il tefillin usiamo il braccio e la testa quando le donne accendono le candele usano le mani e così via l'unica mitzvah che la facciamo con il corpo intero che entriamo nella mitzvah è la mitzvah di mangiare nella Sukkha perché entriamo dentro e la Sukkha ci circonda la Sukkha ci abbraccia ci riscalda ci dà protezione spirituale che nessun'altra mitzvah ci dà ed è questo quello che Hashem dice voglio dimostrarvi quanto vi voglio bene vi faccio fare un qualcosa di facile un qualcosa che è naturale per voi e vi chiede di farlo e lo calcolo come una mitzvah mangiamo e facciamo la mitzvah vuol dire che la nostra materialità cioè il mangiare deve essere anche un qualcosa di momentaneo vuol dire non deve per forza non dobbiamo fare sempre fronte sempre pensare che le cose materiali devono essere le cose più importanti della vita ma noi dobbiamo fare delle cose materiali un qualcosa di instabile perciò mangiamo nella Sukkha mangiare è un qualcosa di prettamente fisico e materiale la Sukkha cos'è? è una cosa spirituale vuol dire che è una cosa che c'è e non c'è è qualcosa di precario perciò noi diciamo facciamo materialità in un modo precario vuol dire non dobbiamo essere attaccati ai piacere della vita ai soldi al denaro al potere a tutte quelle cose ma dobbiamo essere capaci di ogni tanto staccarci da queste cose e farle diventare qualcosa di instabile quello che per noi sono le sicurezze devono diventare qualcosa di secondario noi cosa facciamo? infatti usciamo dalla nostra casa che ci dà sicurezza la nostra casa che è forte non potrà mai cadere usciamo dalla stabilità e dalla sicurezza che la casa ci dà per entrare dove? in una sukkà che è precaria la sukkà è fatta di assicelle di tende di qualcosa che se arriva un vento molte volte può cascare allora cosa lasciamo noi? lasciamo la sicurezza della casa e andiamo ad abitare per otto giorni in tutto e per tutto ci trasferiamo proprio nella sukkà e cosa ci insegna che? l'instabilità quando sei instabile però sei sotto al cielo Hashem ti invita una settimana all'anno vieni fuori da quello che è la tua sicurezza vieni fuori da casa tua vieni a abitare sotto al cielo sotto alle stelle vai a vedere chi veramente governa il mondo lascia stare per un attimo la tua casa che ti dà sicurezza molte volte chi ha una bella casa è molto sicuro di se stesso e molte volte diventa anche molto pieno e diventa arrogante perché c'è una bella casa perché c'è tanti soldi perché c'è tanta sicurezza molte volte queste sicurezze ci rendono arroganti dice Hashem dimenticati di ogni forma di sicurezza che tu hai per una settimana vieni fuori sotto alle stelle guarda il cielo guarda Hashem profuma il profumo che c'è nel mondo fuori quel mondo spirituale e accorgiti che in verità molte volte nella vita noi ci creiamo dei falsi miti delle cose che ci danno sicurezza ma in verità non è niente di importante perciò quando noi lasciamo la stabilità la comodità della casa e usciamo in una casetta che è una capanna che può cascare da un momento all'altro per dirti che tutto è in mano di Hashem di sicuro c'è solo Dio non pensare che la tua casa è sicura perché in America poco fa è arrivato un uragano e ha spazzato via città intere per dirti che non pensare che se hai una bella casa dura e solida non può cascare Dio è il padrone del mondo Dio ti può mandare fuori per una settimana e questa succa che sembra che sta cadendo non cada ma invece una casa dura può cadere può essere ribaltata perciò qua la Torale sta insegnando mettiti nelle mani di Dio capisci quanto Dio è l'unica vera sicurezza di sicuro nel mondo c'è soltanto Dio tutto il resto oggi c'è domani non c'è chi può pensare che una casa una casa venga sradicata da un uragano da del vento chi può mai immaginare che città intere persone muoiono macchine che volano case che spariscono rase al suolo chi può mai immaginare e questo è quello che la Torale dice devi soltanto avere una sicurezza nella tua vita Dio non la casa non il potere non la ricchezza ma soltanto Dio perciò come fai a capirlo quando lasci tutte queste ricchezze vai nella casetta sotto al cielo sotto alle stelle e veramente lì potrai scoprire come veramente tu dipendi in tutto e per tutto soltanto dalla protezione che Dio ti dà perciò perciò dobbiamo capire quali sono le vere priorità della vita dobbiamo apprezzare le vere priorità della vita la salute l'amicizia la famiglia l'amore il rispetto per il prossimo molte volte noi dimentichiamo tutte queste cose e le mettiamo in secondo luogo perché perché c'è qualcosa di più importante ma la persona che può avere tutte le ricchezze materiali del mondo ma se non ha amicizia se non ha fraternità se non ha qualcuno che pensa a lui se lui non ha qualcuno che si preoccupa se non sono queste cose basilari della vita a cosa servono tutte le ricchezze del mondo perciò Hashem ti vuol dimostrare esci fuori per capire che in verità tutto quello che tu pensi che è sicuro in un attimo può volare via concludo la sukkah è paragonata al popolo ebraico la sukkah sapete che ho spiegato non è una cosa stabile il tetto può cadere le mura si possono muovere è una cosa molto instabile infatti viene chiamata sukkah harai una casa momentanea una casa non fissa e questa è la storia di millenni del popolo ebraico sembra che la sukkah si piega sembra che la sukkah possa da un momento all'altro cadere però la sukkah non cade mai il popolo ebraico che è rappresentato dalla sukkah che sembra che siamo un popolo che ci vogliono radere al suolo ci vogliono da quando siamo nati ci vogliono annientare uccidere in ogni generazione c'era qualcuno che voleva farci fuori perciò sembra che siamo come la sukkah che da un momento all'altro non ci siamo più ma così come la sukkah non cadrà mai perché è una cosa spirituale una cosa divina la sukkah anche il popolo ebraico non cadrà mai ci saranno sempre dei nemici ci saranno sempre persone che ci vorranno del male sempre ma noi dobbiamo sapere che questa lotta contro il male è una cosa eterna noi dobbiamo aumentare il bene aumentare la luce per scacciare via i nostri nemici noi non combattiamo con le armi noi combattiamo con la preghiera noi combattiamo con le mitzvot noi combattiamo con l'amore l'uno verso l'altro con il rispetto l'uno verso l'altro perciò quando la sukkah sembra che stia per cadere da un momento all'altro non cade mai perché il popolo ebraico siamo il popolo che Hashem ha scelto per guidare tutte le altre nazioni a seguire lui noi abbiamo un compito ben specifico di riunire tutte le varie nazioni a seguire soltanto un unico Dio perciò sembra che cadiamo ma non cadiamo mai perché Hashem ha bisogno di noi Am Israël Chai auguriamo a tutti veramente di essere gioiosi di avere un simchah di andare a fare le mitzvot di mangiare una sukkah di scuotere l'ulav di fare tutte queste cose per renderci felici e ricordiamoci il male si scaccia con il bene e non con il male chaccia mea chaccia mea chaccia tutti israël chaccia bello chaccia